Il 31 dicembre si avvicina e la notte di Capodanno è ormai alle porte. Tra gli appuntamenti immancabili dei festeggiamenti rivani, torna anche il tuffo di Capodanno, che ha inserito di diritto il capoluogo gardesano nell'elenco delle città che celebrano in maniera eccentrica il primo giorno del nuovo anno. Giunto la diciottesima edizione, il tuffo, in programma venerdì 1 gennaio, è ormai diventato un marchio di fabbrica di Fabrizio Di Stasio, che ogni volta rinnova il suo invito ai temerari. Sono sempre moltissimi gli intrepidi che sfidano le condizioni atmosferiche e l'acqua gelida. Erano 77 nel 2015 e ben 107 nel 2014. Un modo alternativo per scacciare l'anno vecchio, per portarsi buon auspicio per l'anno nuovo o semplicemente per sfidare se stessi con un pizzico di follia. L'appuntamento si rinnova, come di consuetudine, in Piazza Catena, dopo i primi rintocchi del mezzogiorno delle campane della Torre Apponale. E quest'anno ci sarà una novità. Sentiamo l'intervista al responsabile dell'organizzazione, Fabrizio Di Stasio. L'iniziativa dei tuffi di Capodanno è nata nel 99 tra amici e ogni anno riesce a coinvolgere un numero sempre maggiore di temerari. Sì, sono ormai 18 anni quindi, la memoria ormai mi sfugge perché sono diventato vecchio nel frattempo. Quindi 18 anni che si ripete quella come una tradizione, una tradizione che aumenta, migliora, si arricchisce tutti gli anni perché effettivamente diventa tradizione vera. Io credo che possiamo, cioè il segreto di questa manifestazione è che è una manifestazione fatta dalla gente per se stessa. Cioè chi gioca a tuffarsi il primo dell'anno lo fa per se stesso, non lo fa per strani esibizionismi, credo, di questo tipo. Ce ne saranno percentuali bassissime sicure, però effettivamente la maggior parte. E questo credo sia il segreto del successo. È un po' come il Paglio di Sina, il Paglio di Sina tira un milione di turisti però è fatto dai senesi per loro stessi. Stessa cosa qui, il tuffo di riva è fatto per i rivani, dai rivani per i rivani. È una sorta di dichiarazione d'amore dei rivani nei confronti del proprio lago, che quest'anno però avrà una novità. Assoluta, cioè è nata come una storia d'amore, continuerà come una storia d'amore e morirà come storia d'amore. Cioè, con me è sicuro, perché il lago è l'anima di riva del Garda, nonostante tentino in tutte le maniere di togliere quest'anima. Però il lago è immutabile, non riescono a costruirci sul lago, quindi per qualche anno rimarrà sicuramente così. Quest'anno abbiamo voluto aggiungere, appunto, dopo 17 versioni statiche, diciamo, il movimento del tuffo con la bicicletta. Che anche questo, ritorno alla fanciullessa, sempre lo stesso discorso del omaggio al lago. Cioè, quando eravamo bambini noi ci tuffavamo con le bici nel lago, da vari posti. Adesso ci sono indivietti dappertutto, non si può più fare. Una volta all'anno, lasciatecelo fare. È una bicicletta che però è stata preparata ad hoc per questa iniziativa. Assolutamente, di questo ringrazio proprio il dottor Andreatta, della provincia di Trento. E abbiamo fatto una prima prova generale in quest'estate, con le note polemiche a margine, no? Poi risolte, appunto, con questo escamotage dell'unica bici pulita, che non crei nessun tipo di impatto ambientale. Benissimo, noi ci va bene. È stata una scelta, tutto sommato, felice. Di questo ringraziamo ancora una volta Andreatta, che si è dimostrato persona squisita. E credo che quest'anno sarà un motivo di divertimento assoluto in più. E spero che tanta gente vada provare, perché penso che tanti da piccolo l'hanno fatto, tanti da grande possono rifarlo. L'iniziativa si rinnova di anno in anno, anche grazie all'aiuto di diverse associazioni. Sì, effettivamente per i primi anni, ovviamente, facevo tutto io quasi, insomma. E per i primi anni eravamo assolutamente abusivi. Poi negli ultimi due anni, dopo le esternazioni del Zambotti, effettivamente abbiamo chiesto i permessi e ce ne sono stati ovviamente accordati. Grazie appunto alla qualifica di tradizione che nel frattempo il Tufo aveva ottenuto. Ecco, per questo voglio ringraziare il sindaco di Riva, Alberto Mosana, che effettivamente è lui che si occupa delle domande in provincia, quindi questo ci aiuta tantissimo. Voglio ringraziare la Proloco, che quest'anno anche si è occupata di tutta la parte che riguarda il salto con la bicicletta. Voglio ringraziare il comitato Giacomo Cis, che ci sopporta da sempre. Voglio ringraziare la Croce Rossa della Val di Letro, che ci aiuta da qualche anno. Probabilmente quest'anno c'è l'obbligo di avere qui i pompieri per il via del salto, quindi ringrazio in anticipo i pompieri per la loro presenza. E credo, spero di aver dimenticato nessuno. Chi ho dimenticato, vabbè, mi scusi. Un ultimo ringraziamento, forse assolutamente dovuto, lo voglio fare ad Agba, Alto Grado Bicarea, che è quella che poi di fatto mette gli uomini, mette le persone che faranno il truffo con la bicicletta, perché lo farò io, ma il mio truffo sarà ridicolo. Loro invece sono capaci di farlo. E quindi effettivamente ringrazio Agba, Carlo Torboli, il presidente, Barcelli e tutti gli amici di Agba, perché effettivamente senza di loro questa operazione non sarebbe andata a buon fine.